un po tirare le fila di questo percorso vissuto assieme di questi giorni che ci hanno rivisto dopo questo tempo pandemico anche in questa fase intrapandemica cercare un po di di rivederci insieme in presenza per fare il punto della situazione per ridirci alcune cose per rilanciare poi appunto l'attività e la vita della della chiesa con lo sguardo della famiglia in qualche modo e allora vorremmo un po insieme ripercorrere quali sono stati gli elementi essenziali di questo nostro le tappe essenziali di questo nostro camminare camminare insieme e il primo elemento che che vogliamo mettere così a riprenderne l'attenzione risottolineare l'attenzione e questa la forza della parola di dio l'abbiamo messa anche un po la base di quest'albero che ci in qualche modo chiama in ottica sinodale e è stata una esperienza voluta un'intenzionalità volevamo un po recuperare un aspetto che mancasse nelle volte precedenti non che non ci fosse però questo convegno sulla spiritualità e la teologia della vita annunziale e vogliamo rimettere al centro la parola di dio e come avete visto la presenza di rosalba manes ci ha accompagnato nel spezzare questa parola per noi prendendo come spunto quello che è stata una lettura biblica che il papa fa all'interno di amoris letizia presentandoci aiutandoci a leggere un po questo escursus familiare partendo appunto dalla realtà della coppia e non come una realtà giusta apposta ma come l'amore sia il fondamento di questo di questo legame e qualificando anche che tipo di amore c'è e come questo amore diventa fecondo nella generatività dei figli e non solo dei questi figli che si sperimentano non solo come figli ma anche come come fratelli in qualche modo e quindi il secondo passaggio era legato a questo e poi questa realtà che è teofania di dio no perché la famiglia lo si diceva anche ieri la chiesa riconosce che è icona della trinità no però è anche una realtà fragile e vulnerabile segnata dal peccato dal dolore e il papa proprio per non continuare a raccontare come dire solamente una versione visione edulcorata della famiglia in questo linguaggio nuovo e rinnovato della moris lettizia che parte da una teologia dal basso potremmo dire da una sapere pratico da una esperienza che racconta il mistero ci presenta il volto della chiesa della famiglia sofferente quindi il tema del peccato ma non come come uno sguardo rassegnato vabbè c'è siamo facili diversamente no ma anche all'interno di quel di quello sguardo c'è una parola evangelica no c'è una parola di speranza c'è una promessa di bel di bellezza e di comunione di un dio che comincia con quella storia fragile vulnerabile con quella coppia strafragile vulnerabile incoerente a fare una storia di salvezza una storia di presenza e poi è continuato questo cammino prendendo in mano un altro aspetto della vita della coppia che è quello il tema del lavoro e quindi questa dimensione poetica di questo fare no che non è solamente come dire un'azione violenta rispetto al mondo rispetto alla realtà ma è continuare quell'opera di concreazione di dio dove dentro il tema del lavoro c'è ci veniva ricordato il tema del tempo il tema dello spazio il tema delle relazioni il tema dell'identità si giocano molti elementi della vita coniugale quindi la parola di dio che illumina un aspetto importante della vita della vita della coppia così come oggi si è concluso con questo passaggio ulteriore sul tema della tenerezza dove proprio queste figure di simeone e anna all'incontro con questa famiglia giovane che presenta gesù al tempio dove la tenerezza di questo incontro non è il tenerume di cui ci ricordava no rosalba nel nella riflessione anche di don carlo ma è finestra sull'eternità è finestra sul fine questo incontro questa esperienza che è un'altra cifra della vita coniugale che è la tenerezza non è solamente una dimensione di mollezza una dimensione così consolante ma è una uno sperimentare la vita per sempre la pienezza di vita è una finestra sulla sull'eternità allora ci piaceva veramente l'abbiamo voluto fortemente e sappiamo magari forse anche la fatica vissuta nel un ascolto lungo e prolungato della parola ma perché ci desse veramente il ritmo dei passi e anche lo stile che rosalba ha usato intratestuale cioè di aiutarci a leggere la parola con la parola è come se all'interno di questo percorso avessimo voluto far fare anche ai partecipanti a chi è a casa un'esperienza di esercizi spirituali perché riflettere trovarci con la famiglia ci abbiamo bisogno di nutrirci di parola perché le nostre parole possano possono avere un senso e allora ci pareva importante ribadire questo passaggio non solamente come qualcosa di pretestuale siccome siamo cattolici diceva l'orizio no bisogna mettere la parola di dio no no vogliamo proprio riconoscere alla parola non solo un'immensione strumentale ma un elemento sostanziale nel nostro nel nostro percorso e così dopo aver ascoltato la parola il primo step perché la parola è qualcosa che appunto ci ha accompagnato lungo tutto il cammino il primo step è stato quello di lo dicevamo abbastanza spesso insomma di chiedere di coinvolgere la teologia perché ci aiutasse a a fare le domande giuste non tanto perché ci ridicesse ancora una volta i dogmi le cose che che in qualche modo potremmo già sapere ma volevamo leggere la realtà con lo sguardo alla teologia proprio partendo da questa bisogno di focalizzare e puntualizzare le domande allora con il professor Lorizio abbiamo fatto questo percorso e se ci sono due parole che possano in qualche modo che ci sembravano un po' risolvere o condensare il percorso erano capovolgere e fragilità capovolgere le domande perché una di quelle cose che abbiamo scoperto anche con il professor Lorizio era proprio questo di rivoltare il tema del nostro incontro noi abbiamo titolato il nostro percorso famiglia come stile sinodale in cammino con la Moris Letizia e alla fine proprio mettendo al centro la fragilità non come pietismo non come uno sguardo ripiegato su se stesso anche lì di ineluttabilità ma come criterio anche di risposta alla vita siamo arrivati a pensare che forse senza nessuna pretesa come dire narcisistica o di dare però forse non è la famiglia che vive lo stile sinodale ma forse è il sinodo o il cammino sinodale che deve appropriarsi di uno stile familiare per forse questo passo del familiare partendo dalla fragilità, dall'inclusione, dall'attenzione alla diversità che ci venivano ricordate all'interno della riflessione dovrebbe abitare questo tempo opportuno questo cairos che ci è dato del cammino sinodale alla chiesa italiana allora questa riflessione che facciamo qui insieme che è proprio alla soglia dell'assemblea dei vescovi che parlerà di questo tema ma che poi ridonderà nella vita delle nostre comunità ecclesiali forse se assumiamo la responsabilità di addomesticare il mondo e la chiesa forse potremmo aiutare questo tempo sinodale, questo cammino sinodale a scoprire la cifra del familiare anche qui non per mettere la bandierina e per dire siamo meglio di quelli della pastolare dello sport non è questo, è avere criteri ermeneutici, stili di relazione, modi per comprendere la realtà e poi c'è un altro passaggio che abbiamo fatto insieme sì siamo arrivati alla seconda sessione e era la sessione che abbiamo voluto per attingere al sapere pratico diceva Marco abbiamo iniziato con uno sguardo teologico per intercettare le domande capovolgere a volte anche le domande, anche col professor Lorizio ci ha aiutato in questo anche alla luce di una fragilità che va accolta come una sfida, come un'opportunità però non partiamo dal niente, a volte la tentazione che abbiamo forte nei nostri ambienti ecclesiali è che si arriva e tutto quello che ci ha preceduto non serve più e invece non è così quindi quando abbiamo pensato a questa sessione sul sapere pratico della pastorale familiare l'abbiamo pensata con questo ponte ideale tra passato e presente allora il passato è stato mettersi in ascolto dei 35 anni dell'ufficio quest'anno ricorre questo anniversario che è un anniversario importante per noi noi siamo arrivati da appena un anno quindi dicevamo stiamo nutriendo anche di questa grande storia di una famiglia di famiglie e se dovessimo racchiudere quello che ci è stato consegnato abbiamo pensato a queste tre parole storia, obbedienza e sfide perché nel racconto che ci è stato fatto anche magistralmente condotto anche dal dottor Boffi che ci ha ricordato anche la storia il contesto storico in cui il magistero andava progredendo in questi 35 anni abbiamo visto come la storia ha interpellato fortemente il magistero perché è vero che il magistero interpella la storia ma è altrettanto vero che la storia stava interpellando il magistero consegnando bisogni e sfide sempre nuove sulla famiglia e che quando queste sfide e questi bisogni sono stati messi in luce, ascoltati allora la risposta è stata efficace laddove l'abbiamo rimossi per paura di una non obbedienza piena quell'obbedienza è venuta ancora meno perché è riemerso quel bisogno non più come una sfida come un'opportunità ma come un'emergenza e quando si agisce in pastorale in emergenza in genere non si è efficaci questo anche in pedagogia vale e quindi diciamo che vale tanto più anche per noi nelle sfide pastorali allora metterci in ascolto del passato ha voluto dire veramente riappropriarci di una storia e soprattutto di una categoria nuova interpretare la storia come un'opportunità come una sollecitazione a raccogliere le sfide c'è stato poi il passaggio successivo il sapere pratico non è solo memoria del passato ma è un sapere pratico che ci viene consegnato anche dal presente allora qui abbiamo avuto il professor Donati e la professoressa Cadei anche questo la scelta è stata fortemente voluta anche per mettere in luce quello che emerge anche in Amoris Laetitia la necessità che l'operato pastorale si faccia carico anche e sia supportato anche dalle scienze umane e allora la presenza puntuale del professor Donati e della professoressa Cadei ci ha riconsegnato questo ci ha riconsegnato un ascolto dei bisogni attuali delle sfide attuali e allora il professor Donati ci ricordava e qui l'abbiamo sintetizzato in queste due diciamo sottolineature il bene relazionale e le alleanze il professor Donati ci diceva oggi più che mai è importante recuperare l'idea di famiglia come bene relazionale avere custodia di quella che è la dimensione relazionale della famiglia perché una cattiva custodia una mancata custodia ha fragilizzato la realtà della famiglia ma abbiamo fatto anche un passo ulteriore con la professoressa Cadei abbiamo visto i bisogni anche dopo questo periodo pandemico bisogni che sono ulteriormente cambiati gli accessi ai consultori con nuove necessità delle famiglie, dei giovani però la bellezza dello sguardo che ci è stata consegnata è quella ancora una volta di creare alleanze per andare incontro a questi bisogni quindi non una pastorale familiare rinchiusa sui propri spazi né un'attività di consultorio chiusa nei propri spazi ma una rete che agisce e agisce questo ci è sembrato importante non soltanto per stare in ascolto dei bisogni ma anche per sollecitare desideri io penso che almeno io mi porto a casa sia da madre che anche da educatrice questo sguardo di saper suscitare desideri nelle nuove generazioni perché probabilmente quello che manca sono le giuste domande e quindi questo filo anche il sapere pratico ritornava su questa necessità di creare alleanze che suscitino nuovi desideri sì questo sapere pratico che appunto abbiamo raccolto insomma nella nostra storia con questi 35 anni e poi con questo sguardo sulla realtà e poi dopo è sfociato nella raccolta di alcune sfide e se vi ricordate ieri abbiamo fatto questa tavola rotonda un po' mirata focalizzata che ci ha aiutato a non risolvere tutti i problemi della famiglia o tutte le sfide che la famiglia in qualche modo è chiamata a vivere il Papa ci fa fare questo cammino nell'amor isletizia affronta il tema delle sfide della famiglia e noi ci siamo concentrati un po' sul tema della dimensione educativa sul tema della dimensione della spiritualità l'educazione in modo particolare degli affetti la spiritualità coniugale e il tema di un'alleanza tra sposi e presbiteri e pastori ecco mi pare che questa cosa qui che questa sfida che questa alleanza che questo linguaggio comune da dover costruire da una pastorale come dicevo prima che non è legata al familiarismo ma che diventa trasversale proprio perché ha chiara la missione della famiglia e allora chiarificare purificare meglio la missione della famiglia come missione ecclesiale che si realizza in comunione con i presbiteri forse è la sfida di questo tempo che ci viene che ci viene offerta la sfida che ci viene offerta in questo tempo e ieri ritornava con forza questo questo elemento che poi intrecciava appunto la vita delle famiglie nella spiritualità perché dal modo di pregare piuttosto che dal modo di di vivere la quotidianità il desiderio dell'annunzialità frustrato o meno ha a che vedere con questa sinergia tra sposi e presbiteri i pastori che guidano la chiesa accompagnano la chiesa nella sua missione sono i soggetti principali in qualche modo della missione della chiesa e allora però c'è bisogno di focalizzarsi meglio qual è la missionarietà in modo particolare degli sposi e da ultimo questo passaggio tra il tema della missionarietà e della missione degli sposi con i presbiteri siamo arrivati oggi a un altro passaggio con Monsignor Giulietti ecco ho sbagliato perché l'ultimo non l'avevamo evidenziato comunque Monsignor Giulietti di cui è fresca la relazione quindi non andiamo a fare un'ulteriore sintesi ci sembrerebbe no poco ecco superfluo possiamo solo anche qui dare un accenno ci è sembrato che questa quotidianità della famiglia che abbiamo respirato ieri come un'opportunità per raccogliere le sfide per creare nuovi desideri si aprisse a un artigianato dell'ecologia integrale questo spaccato che ci ha dato sulla lauratosi e di come è un modo la lauratosi di dirci apritevi al mondo però nella quotidianità della nostra famiglia ci è sembrato bello questo la consegna che ci ha fatto che ci ha fatto Monsignor Giulietti perché ha attraversato tutte le dimensioni della persona quelle che ci coinvolgono nelle relazioni familiari e anche fuori quindi ha parlato di sentimenti di idee di azioni di spiritualità ma anche di una libertà che va educata come il rapporto col resto del mondo in questa prospettiva appunto dell'ecologia integrale e l'altro accenno a custodire ed allenare alle virtù che è una cosa a cui siamo poco avvezzi in famiglia forse anche i tempi frenetici a volte anche come genitori tendiamo a voler appiccicare ai nostri figli alle nuove generazioni i valori in cui crediamo noi e invece proprio come abbiamo anche sperimentato poi dopo nei workshop di cui parleremo la relazione educativa chiede tempo e il tempo in genere attiene alla virtù perché è un allenamento questo habitus di cui ci parlava Giulietti e quindi pensiamo veramente che abbia aperto uno sguardo ulteriore per uscire come diceva Marco dal familiarismo e invece intrecciare il familiare con il mondo rendere domestico il mondo ci invita Papa Francesco nella Moris Letizia che non significa appunto pretendere che il mondo diventi nostro ma piuttosto che noi ci affacciamo al mondo in modo propositivo quindi questo è stato un po' il percorso teorico diciamo i contenuti le provocazioni l'occasione un po' per riflettere diciamo siamo partiti all'inizio di questo nostro convegno riconoscendo che quest'anno c'erano degli appuntamenti appunto i 35 anni dell'ufficio i 40 anni della familiare sconsorzio e questo patrimonio doveva in qualche modo sfidarci questo cammino sinodale che in qualche modo ci vedeva inevitabilmente coinvolti come cristiani come famiglie come operatori pastorali e quindi come intrecciare tutto questo qua i 5 anni alla Moris Letizia cioè abbiamo cercato di costruire questo percorso proprio per far sì che questi eventi non fossero solamente appuntamenti celebrativi ma provocazioni per ordinare un pensiero e per aiutarci così a costruire un presente che diventi solido slancio per il futuro in questa logica qui dopo aver ascoltato delle cose volevamo diventare competenti almeno competenti provare a capire cosa quali strumenti poter utilizzare per far sì che queste idee che queste provocazioni diventassero un bene comune e allora ci siamo lasciati fatti lasciare ci siamo fatti lasciare per aiutare da Roberto Maurizio il professor Roberto Maurizio che ci ha parlato della coprogettazione ci ha parlato della coprogettazione che appunto non è il baratto non è l'acquisto ci ha aiutato un po' a dire che cosa non è e che cosa è per poi arrivare anche qui senza la pretesa di una competenza realizzata in pienezza alla fine di questi workshop ma l'idea era quella di provare a assaggiare se questo strumento della coprogettazione che in qualche modo trasforma l'inizio le idee iniziali in qualcosa di diverso fosse efficace fosse d'aiuto al vostro servizio alla chiesa locale dove vivete e allora abbiamo costruito questo progetto e quindi volevamo un po' rendervi conto di che cosa abbiamo colto dai lavori che avete fatto dai dieci gruppi di lavoro allora i temi le provocazioni di fondo li abbiamo prese sempre da Maurice Letizia ma lo diciamo adesso perché il lavoro è già stato fatto erano poco importanti di che cosa volevamo parlare perché quello su cui volevamo farvi lavorare non è tanto infatti non vedrete l'elenco alla fine né dei progetti perché alcuni non ci sono arrivati né delle sfide perché alcuni ci sono arrivati altri non ci sono arrivati perché fa parte un po' perché non era quello interessante quello che ci interessava è che seguendo un processo in ogni fase del processo voi vi allenaste a costruire una coprogettazione questo era importante per noi sfidarvi a scoprire la bellezza e la fecondità di questa cosa qui e allora volevamo appunto uno svelare che i temi erano pretestuali quindi io spero di non deludere qualcuno che voleva tornare a casa con la ricetta pronta per poter fare qualcosa da proporre al proprio vescovo o alla propria consulta non era quello il test non era quella l'idea e c'è una frustrazione e due vorremmo dirvi che cosa vi hanno fatto fare i tutor che ringraziamo per l'incoscienza e per l'obbedienza perché bisogna riconoscere perché anche qui non hanno fatto un corso di preparazione in coprogettazione tenuto dal professore da un mese no li abbiamo beccati la sera prima e dopo una giornata leggerina se vi ricordate quindi molto lucidi no li abbiamo anche sottoposti un ulteriore stress dove li abbiamo dato delle anche qui categorie di orientamento degli strumenti lo ribadisco per fare queste cose ce lo diceva il professore c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di allenamento ora se vi è piaciuto ce ne sono in giro per l'Italia che lo sanno fare cerchiamoli e coinvolgiamoli in questo processo adesso ci serviva qualcuno che incoscientemente ma nell'obbedienza alla fede quindi chiamati hanno detto di sì si rendesse disponibile per aiutarvi a fare questo percorso il processo che abbiamo fatto fare sono stati queste step qui il primo passaggio è stato quello di raccogliere delle idee molti erano un po' disorientati poi lo vedremo cioè era partire da un ascolto un po' particolare molto anche forse per alcuni gruppi come dire martellante poco gratificante per certi versi parole inerenti all'oggetto o alle emozioni volevamo cominciare a fare una raccolta a imparare a raccogliere contenuti o emozioni rispetto a un tema che era quel tema di accoglienza questo ha delle implicanze ma le vedremo poi dopo stabilire una scala di priorità in base a criteri condivisi e allora da questi da questi elementi che sono emersi vi abbiamo chiesto vi hanno chiesto vi hanno sottoposto a tortura per dire ma questo va prima o questo va dopo e perché scegli questo prima e perché questo dopo e lì sangue e lacrime che penso immagino abbiamo dovuto sistemare quelli del servizio della casa ecco però era importante e anche qui c'è coprogettazione perché c'è bisogno di mettere da parte del proprio per trovare un bene comune e nel mettere da parte il proprio c'è la scoperta di sé perché questo era interessante l'altro elemento è sceglierne una perché quello che ci ricordava fin dall'inizio anche il professore Lorizio noi forse come chiesa siamo tanto bravi ad ascoltare e ce lo ricordava anche la professoressa Cadei forse l'ascolto ormai ma poi forse a volte diventa difficile prendere la decisione di tutto quello che abbiamo ascoltato su che cosa puntiamo e qui non è spontaneo perché ci siamo ascoltati e allora sarà facile decidere che cosa fare e l'avete sperimentato perché dover fare una graduatoria e poi dire ok cosa scegliamo ha avuto anche lì un passaggio di fatica per e l'altro passaggio difficile non è solamente scegliere tradurre in sfida far diventare una domanda su cui costruire poi un progetto ma questo passaggio non era così automatico e non è così semplice bisogna allenarsi a tradurre in sfida un concetto un bisogno e da ultimo decidere di orientarsi sui contenuti o sul processo perché il progetto che vogliamo realizzare può essere legato o ai contenuti che cosa dobbiamo fare e che cosa già c'è e mettiamo insieme quello che già c'è oppure possiamo pensare a qualcosa di nuovo e allora dobbiamo rimettere insieme le conoscenze e ricostruire un altro processo allora l'idea di fondo che volevamo un po' sviluppare poi il materiale più dettagliato quindi l'abbiamo messo un po' a modi appunti ci verrà dato dal professor Maurizio però era questo aiutarvi a sperimentare un processo di coprogettazione è possibile partire da sconosciuti per arrivare a una condivisione comune per qualcosa che avrà bisogno di tempo per tradursi bene poi vi abbiamo chiesto ai tutor a chi seguiva il gruppo di definire quelle che erano state le criticità da un lato nel processo che avevano trovato durante il pomeriggio che ieri avete dedicato a questo lavoro a questo servizio dall'altro invece le cose belle e lo stupore quelle che sono quelle che sono state le criticità che ovviamente abbiamo cercato di condensare e di rispecchiare quanto più fedelmente la prima la resistenza al cambiamento cioè nel senso uno arrivava aveva un'idea anche di come doveva svolgersi il gruppo anche magari per esperienze passate e quindi trovarsi va da sé con il disorientamento per la mancanza anche di un obiettivo nei workshop precedenti ricordo perché l'abbiamo fatti insieme dice dobbiamo poi arrivare a metter giù una prassi pastorale che sia al meglio della prassi che hanno a Vicenza piuttosto che a Milano piuttosto che a Perugia e poi dopo definiamo il top invece non era questo come ha spiegato prima Marco l'obiettivo e questo ha un po' disorientato c'è stata questa prima fase che è stata comune a tutti i gruppi di disorientamento e di resistenza da parte di qualcuno che dice no io siccome non capisco diciamo non entrava nel processo la fatica anche di stare nei tempi del processo per cui non avevamo dato dei tempi se non quello finale ma dei tempi standard sulle varie fasi questo poi si lasciava anche un po' al polso della situazione che aveva il tutor di dare questi tempi magari per qualcuno all'interno eravate dai 10 ai 15 componenti ogni gruppo ognuno aveva un'idea del tempo da darsi diverso dall'altro e anche questo stare all'ascolto degli altri nel rispetto degli altri magari uno dice ok è finita andiamo avanti invece qualcun altro aveva bisogno ancora di continuare a spiegare il perché quindi anche una fatica di stare nei tempi del processo io questo lo vedo nelle nostre realtà locali parrocchiali di unità pastorale o vicariale o altro non ci stiamo nei tempi perché vorremmo tutti arriviamo con un'idea del progetto dobbiamo organizzare per fare esempio ieri diceva il professore Maurizio di fare la festa in quel locale che si era chiesto al comune le varie associazioni di volontariato ognuno ha l'obiettivo di fare la sua festa per cui quando ci troviamo carita scatechismo liturgia o altro ognuno pensa ora ci prepariamo al Natale e ognuno pensa al suo pezzetto di liturgia al suo pezzetto di momento al suo pezzetto di carità facciamo questo quindi la fatica è quella di stare insieme e vedere di arrivare come ci diceva professore ad un unico momento per tutti ma questo è stato frutto di un processo di uno di due di tre anni con dei tempi lunghi su questo mettiamocelo in conto il condizionamento dell'esperienza precedente ovvio uno viene c'è un bagaglio di esperienza c'è un bagaglio di parole e queste vorrebbe far emergere all'interno del gruppo ognuno di noi diciamocelo francamente siamo siccome anche perché magari legittimo per noi è stata bella l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso che ho visto e vorrei che fosse replicata all'interno della nostra comunità differente interpretazioni delle parole anche qui alla parola gioia alla parola no anzi sincerità alla parola volontariato quello che avete le parole che sono immerse da vari gruppi ognuno poi ok ci riconosciamo ma qual è l'interpretazione che tu dai a quella parola ci veniva in mente se si dice casa però se qui la casa per uno dell'Umbria è in un modo per uno magari di Reggio Carabria è un altro se ci avevamo qualche schimese era ancora un altro concetto idea di casa quindi anche lì poi bisogna mettersi giù e lavorarci la fiducia come realtà da costruire anche qui talvolta ci manca la fiducia l'uno dell'altro quando siamo nelle nostre comunità un po' infatti la cosa bella era anche quella ma poi dopo lo diranno loro di non agganciare alle parole che sono emerse la persona perché noi poi siamo sempre soliti diciamo siccome l'ha detto Teresa allora non va bene magari se l'avesse detto e questo invece poi vi è stato evitato questo dovremmo farlo anche nelle nostre comunità parrocchiali noi veniamo molto prevenuti perché sappiamo che quello lì è quel tipo lì lo conosco ha sempre fatto così ha detto così è una tentazione e una criticità forte che però non ci fa andare avanti in questo processo allora dobbiamo cercare o perlomeno di capire attraverso quello che avete fatto ieri che questo va per quanto possibile evitato queste sono queste sono come diceva Stefano delle criticità che abbiamo raccolto dalle vostre riflessioni in modo particolare di tutto ma sono come abbiamo messo fisiologici cioè non è che ci è andata male perché i nostri responsabili erano poco esperti non è che siccome non ci conosciamo non facciamo parte dello stesso territorio se fossimo stati tra i nostri queste cose ci sarebbero state evitate noi volevamo restituirvi questa cosa che queste cose qui le beccherete ogni volta che li cominciate perché ogni gruppo che si viene a costituire vivrà queste tensioni e quindi bisogna attrezzarsi per stare dentro queste fatiche quindi non era sbagliato fa parte di un processo di crescita prendere in considerazione che questi passaggi ci sono e sono fisiologici un po' mi tornava in mente sempre per farci illuminare dalla parola come diceva prima Marco e come abbiamo fatto in questi giorni stamattina lo diceva Rosalba cosa vuol dire essere altro Cristo cristiano vuol dire passare per la Pasqua quindi quando noi ci meravigliamo che vogliamo intraprendere il cammino di cristiani però ci arriva una sofferenza ci arriva una croce e ci stupiamo no è naturale se no avrei dovuto scegliere un altro percorso così qui quando noi decidiamo di avviare questi processi all'interno delle nostre comunità ci sono delle criticità che dobbiamo assolutamente percorrere con tempi che non sappiamo ma che sono naturali diciamo così naturali poi ci sono abbiamo cercato di dare anche voce ad alcune fatiche ma più che altro non per starci in queste fatiche ma per per consolarci forse che è un modello poco attuabile nelle realtà territoriali è vero sì ma non è detto che non lo sia per il futuro cioè abbiamo sempre uno sguardo un orizzonte grande non è perché non siamo riusciti a farlo nella nostra parrocchia del lago Trasimeno per dieci anni non ci riusciremo mai cambiano i tempi cambiano le persone si maturano anche i tempi quello che non era pensabile dieci anni fa forse oggi è possibile quindi dovremo tornare alle nostre case alle nostre anche case parrocchiali con un desiderio forte di avviare questo processo perché potrebbe essere ora il momento di attuarlo e poi difficoltà di accettare le regole questo era proprio stato un imperativo di Roberto Maurizio della mancata presentazione noi sempre anche magari dicevo io legittimo perché quando uno si presenta arriva in casa in famiglia dice chi sei da dove vieni cosa fai però non era questo l'obiettivo e quindi se qualcuno questo l'ha trovato come un elemento di criticità era voluto per poter passare direttamente al processo parola Pierluigi e Gabriele si sente e quindi poi ecco la nota comune di tutti quanti i laboratori è stato questo cioè questa nota di stupore finale stupore di vario genere allora vediamo velocemente questi sono proprio slogan diciamo piccole frasi che abbiamo tratto dai vostri commenti dai commenti dei tutor dice qui la depersonalizzazione ha disinescato l'idea da difendere no battibecchi no ascolti polarizzati perché focalizzati sul tema quello che diceva prima Stefano cioè quando ho un nemico contro cui combattere faccio la guerra ma se non so contro chi devo combattere non ho pregiudizi non ho precomprensioni non ho preprevenzioni rispetto a quello che sta affermando quella cosa decade anche la guerra cioè non devo difendere niente perché il focus non è avere ragione prevalere ma il focus è cercare una meta comune questo è stato un primo stupore che quasi tutti hanno riportato poi il pensiero finale era del tutto diverso da quello iniziale e poi più sotto dice cambiare idea insieme con partecipi e costruttivi qualcuno ha detto ho cambiato idea tre volte complimenti mi avete fatto cambiare idea tre volte questo è anche questo era un grande stupore perché se avessi fatto da solo sicuramente non avrei mollato la mia prima idea quindi questo è stato proprio uno stupore lo stupore di uscire da se stessi cioè si può uscire da se stessi qua stiamo parlando di chiesa in uscita ma dobbiamo davvero cominciare da noi perché uscire innanzitutto significa uscire dagli schemi e questa è una cosa terribile che abbiamo tutti delle gabbie mentali che anche come diceva lui legittime cioè comprensibili che derivano dalle nostre esperienze dalle nostre convinzioni dai nostri successi e insuccessi quindi sono assolutamente accoglibili diciamo così però non dobbiamo far sì che questi schemi poi ci imprigionino eccessivamente ci impediscano di uscire di fare esodo dall'io come diceva veneto sedicesimo quindi di fare questa uscita intanto da noi stessi per arrivare a un pensiero condiviso che oh caspita è più bello di quello mio questo è lo stupore no? in fondo quello a cui siamo pervenuti supera è ancora più soddisfacente è ancora più di ampio respiro di quello che io avevo pensato e anche un po' difeso un po' custodito per un po' e poi questo è molto importante bellezza di un dialogo autentico secondo me questo è uno degli stupori maggiori perché supera quello che diceva prima Stefano la presentazione io sono questo faccio questo faccio quest'altro in molti gruppi è successo che le persone si sono aperte hanno detto di sé cose più profonde di sé personali anche senza doversi presentare cioè senza dire vengo da qui sono di qua faccio parte di quest'altro ma uscire proprio allo scoperto mettere in comune emozioni esperienze vere questo ha creato tanta comunione e ha determinato questo che c'è scritto qui questo l'avete scritto voi bellezza di un dialogo autentico molta più autenticità che non quando noi abbiamo fatto nella nostra storia abitudine così racconti di quello che facevamo cioè che va benissimo però si rimane su un livello diverso qui c'è stato un coinvolgimento che entrava pure sul piano emotivo non soltanto sul piano cognitivo operativo sociale diciamo così ma molto più profondo chi è riuscito a fare questo o anche chi non è riuscito però ha goduto di poter ricevere chi è riuscito a farlo abbiamo ognuno i nostri tempi e non c'è niente di giusto e di sbagliato quindi chi si è messo più in gioco bene chi non l'ha fatto avrà tempo di farlo se vuole però intanto ha goduto di chi l'ha fatto l'idea si è arricchita man mano quindi ecco questo ampliarsi del pensiero che va oltre il proprio confine che in qualche modo abbraccia un po' un orizzonte più ampio cambiare idee insieme l'abbiamo detto questa è anche molto bella questa definizione è bella è possibile anche quando sembra impossibile cioè in fondo ognuno di noi pensa ognuno di noi è entrato pensando che mamma mia ma figurate se mettiamo insieme 15 teste 15 pensieri è risaputo che anche il caffè 15 italiani lo prendono in 15 in modo diversi c'è proprio la vignetta chi lo dice quindi diciamo mettere insieme tante individualità non è semplice per pervenire a una cosa unanime grande stupore l'unanimità infatti era uno dei mandati la sera quando abbiamo parlato con i tutor una delle cose su cui ha insistito Roberto Morizio era questa bisogna pervenire non a una maggioranza ma all'unanimità oh ragazzi a Roma si dice mi hai detto un prospero cioè è una cosa difficilissima cioè a cui non siamo veramente abituati quindi questa è un'altra fonte forte di stupore è stata di dire vabbè ci siamo riusciti non ci credevamo nessuno ci credeva all'inizio sembrava impossibile qualcuno voleva defilarsi qualcuno è stato recuperato difficoltà ma io una serie di cose però che appunto fisiologiche o meno ma comunque sicuramente insite nel percorso io parlavo l'altro giorno parlavamo con delle amici nostri che stanno in una diocesi laziale e dice ma noi incontriamo difficoltà qui e là portate avanti però è questo questa è la prima sfida che emerge da tutto questo la prima sfida che emerge è questa stare dentro un processo faticoso complicato lento lungo con tutte queste diciamo step un po' così però dobbiamo accettarla questa è la sfida da accettare prima di tutto perché ma questo ragazzi ma nelle coppie com'è scusate non ci vuole la virtù della pazienza la virtù dell'accoglienza la virtù della temperanza per tenersi un attimo fermi sull'ira su tante cose ci vuole tutto questo ogni sodalizio umano ogni piccola o grande comunità deve vivere questi passaggi altrimenti buttiamo al secchio il matrimonio buttiamo al secchio la parrocchia e quant'altro perché questo fa parte dell'umano il nemico non è l'altro il nemico è tutto ciò che ci divide dall'altro è quello lì che ci vuole dividere quindi sono sfide che dobbiamo accettare per venire a qualcosa di molto più bello lo stupore è si può fare qualcosa di più che va oltre oltre la vedovanza oltre la solitudine oltre noi stessi per gustare un frutto molto più gustoso molto più pieno molto più maturo e molto più fraterno veramente fraterno allora io vorrei chiudere con un tweet e basta e cioè il tweet è questo we can do lo possiamo fare allora il più grande stupore è quello che deve venire non quello che abbiamo sperimentato per cui due compiti a casa il primo compito a casa riguarda noi perché questa roba qui riguarda sicuramente anche il modo di stare nelle relazioni nostre di coppia nelle nostre relazioni familiari spesso noi questo lo sperimentiamo anche io e Gabriella spesso noi nei nostri negoziati il verbo che utilizzava il Papa Francesco negoziare all'interno della vita familiare per trovare dei punti di convergenza nelle decisioni rischiamo l'escalation l'escalation significa che si va a litigare e non si arriva a nessun tipo di conclusione per cui il primo compito a casa è sperimentarci allenarci a utilizzare questo metodo nelle nostre relazioni di coppia in quello che progettiamo dalle cose più banali il fine settimana dove andiamo dove non andiamo anche la relazione con i figli guardate è un grosso compito per noi individuale sia per le coppie sia anche per le persone singole secondo compito a casa è questo il rischio è che noi torniamo a casa e questo laboratorio lo mettiamo nel cassetto e se ne parla l'anno prossimo al prossimo incontro questo è un rischio concreto allora questa palestra questo primo lui diceva Fran Marco è importante allenarsi allora abbiamo fatto il primo giorno di palestra ma se ci fermiamo qui non è servito a nulla per cui questo processo questa cosa che abbiamo imparato che non è il frutto solo del laboratorio alcune parole chiave di questo laboratorio vengono agli altri incontri che abbiamo fatto in questi giorni la parola relazione Pierpavo Donati la parola alleanza Livia Cadei la parola sfida che è venuta anche dalla storia dell'ufficio famiglia queste parole queste parole quindi curare l'alleanza nell'equipe diocesana nell'equipe parrocchiale curare la relazione nell'equipe diocesana nell'equipe parrocchiale e assumersi la responsabilità di una sfida l'audacia di assumersi la responsabilità di una sfida anche su cose che dovete programmare adesso all'interno della diocese della parrocchia utilizzate promuovete questo tipo di metodo ci sono anche dei testi che potete prendere per approfondire che possiamo prendere ci mettiamo anche noi qui dentro quindi il secondo compito a casa non mettiamo il cassetto tutto quello che abbiamo incassato in questo convegno quindi facendo riferimento al laboratorio ma anche a tutto il resto e facciamolo diventare carne e così abbiamo finito così abbiamo concluso questo percorso quello che volevo rilanciare è questo anche qui non vogliamo proporre assoluti cioè questo come dire è questo metodo che abbiamo vi abbiamo proposto alla fine di questo percorso della coprogettazione è un metodo che ci sembrava potesse rispondere alla sfida di questo tempo stiamo in un cammino sinodale abbiamo bisogno di strumenti per costruire insieme non è l'unico noi ci siamo come dire compromessi così abbiamo pensato che questa cosa funzioni ve l'abbiamo fatta sperimentare ci crediamo ma c'è anche altro il Papa ci invita ad aprire percorsi vuol dire che chi più ne ha più ne metta non c'è un dogma che arriva dall'alto e poi dopo via via a cascata ritorna giù queste le sfide che diceva Pierluigi sono è logico che sono praticabili e sono rilanciate però se avete altre idee mettetele in circolo fatele crescere parliamone questa cosa qui è nata proprio da contatti con alcuni di voi che avevano fatto esperienza da altre parti e l'hanno immessa in gioco allora il gioco è giocare mettersi in gioco così come questo convegno ne parlavo con qualcuno io spero che non finisca qui nel senso che molti di voi nei corridoi ci restituivano grazie è stato bello interessante belle queste relazioni però potete visto che sono in streaming adesso le sistemeremo potete utilizzarle per fare formazione cioè chi è stato qui o chi ha avuto i giorni disponibili per fare questa per vivere questa esperienza bene però ai preti di una diocese si può prendere una relazione quella di Lorizio piuttosto che un'altra piuttosto che quella di Pierpaolo Donati e cominciare a fare una riflessione poi voi fate mediatori di portare avanti alcune risposte o troviamo sul territorio qualcuno che possa integrare le nostre ignoranze allora penso che il valore di questi strumenti come i convegni in un tempo come questo sia proprio nella possibilità di prendere pezzi e di utilizzarli per la formazione perché magari chiamare un professore che è venuto qui non è così facile averlo in parrocchia piuttosto che in diocesi ma può diventare possibile partire da questo che voi avete vissuto e farlo diventare il primo passo ecco che allora e volevamo concludere con questo con questo numero di amoris letizia dell'invito che ci fa Papa Francesco tutti siamo chiamati a tenere viva l'attenzione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante camminiamo famiglie continuiamo a camminare quello che ci viene promesso è sempre di più non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa ci pareva che in questa frase sintetica ci fosse tutta una serie di parole che abbiamo incontrato in questi giorni e allora alla fine abbiamo voluto anche riformulare prendere sul serio la sfida che poi vivremo nei territori senza nessuna pretesa dogmatica nei confronti della conferenza però vorremmo vivere nei nostri territori un sinodo o un cammino sinodale come stile familiare e quindi vogliamo chiedere al Signore veramente di aiutarci in questo percorso vi ringraziamo tutti per la partecipazione e per la presenza siamo qua in questa forma così allargata perché un po' questo è il volto dell'ufficio con il tempo avete visto nella storia c'era solamente il sacerdote poi c'era l'aiutante di studio poi c'era una coppia l'aiutante di studio adesso abbiamo due coppie perché c'è anche tanto da fare c'è il corso di alta formazione che ci aiuta a formare operatori di pastorale ecco e quindi l'ufficio per la pastorale della famiglia si allarga tengo famiglia quindi questi volti non sono casuali vorremmo un po' allargare gli orizzonti grazie ancora a tutti e ci avviamo alla celebrazione dell'eucaristia perché se no poi dopo il vescovo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.